Tutto chiaro? Tutto chiaro Come ti sei trovato? Come è andato il corso di grafica? Molto bene, molto bene Diciamo mi ha aperto la mente Mi sono trovato molto bene anche con l'insegnante Molto bravo, comunque ci ha dato parecchi consigli E' stato molto interessante Soprattutto dal vivo Perché poi nelle pause comunque Michele ci ha dato vari consigli E' stato molto molto bravo Quindi mi sono trovato bene Come sei arrivato a noi? Come ci hai trovato? Ma in realtà ti dirò Io mi ero diciamo appena licenziato E volevo vedere un po' Varie possibilità E volevo studiare un po' di grafica E quindi tramite internet cercando A Bologna ho cercato corsi grafica A Bologna e mi siete usciti voi E niente Mi è sembrato un buon corso E ho detto vabbè andiamo, proviamo Bene, speriamo Che tu sei stato contento Mi pare di capire che tu sei stato contento Ok, sì, sì, sì